eccoci qui alla seconda lezione diciamo così del subuteo molto importante questa perché serve per preparare la squadra al meglio per le partite contro i nostri avversari come vedete sul panno verde sul tavolo nel campo di gioco come voi preferite chiamarlo vedete un spray pronto un panno una squadra di calcio col portierino il portiere non serve a niente in questo momento l'ho messo solo così per un fatto estetico il prodotto spray nella fattispecie pronto è il più utilizzato per il subuteo mi spiego meglio a cosa serve questo spray serve per lucidare i piattelli dei giocatori vedete questi sono i piattelli dei giocatori perché serve per i piattelli perché il giocatore se non viene lucidato rischia di fare questo movimento vedete non corre liscio libero vedete si pianta nel momento in cui voi spruzzate un po di spray sopra il giocatore così lo lucidate nel pannetto ok lo fate ben bene sfregate in maniera guardate il giocatore improvvisamente cosa fa avete visto come va dritto ovviamente più lucidate e più il giocatore evita questa cosa che ha fatto quindi dovete arrivare al livello in cui il piattello è ben lucidato e corre veloce vedete vedete va fatto così ecco qua questa appunto è la preparazione della squadra vedete altrimenti fa questa cosa va lucidato bene finché non fa questo movimento dritto voi continuerete a lucidarlo continuerete a lucidarlo vedete adesso va dritto vedete vediamo se sfrutta un po di ecco no non ha sfruttato il lucido degli altri quindi lo lucidiamo bene ok vedete il pannetto serve appunto perché non si depositi sul campo da calcio voi lo sfregate e lo lucidate il giocatore come per incanto avete visto come va bello dritto questa è una cosa molto importante e fondamentale perché altrimenti quando voi dovete raccogliere un pallone a distanza come appunto nel caso di questi tre giocatori se voi avete un giocatore che è frenato perché ha il piattello che non è molto lucido rischiate di fare dei movimenti di questo tipo vedete piano mentre invece se voi lo lucidate il giocatore vedete come corre veloce ecco questa è la fase di preparazione più importante per il subuteo è sufficiente quindi ricapitolando avere un prodotto spray io uso il pronto perché sono abituato ma comunque ce ne sono tantissimi altri che vanno bene sono migliori quelli per pulire il legno per il multisuperfice un pannetto morbido che potete all'uopo girare nel caso che sia troppo umido e tutti i giocatori compreso il portierino vanno lucidati fino a che non vi fa l'effetto appunto di correre veloce questo è quanto ecco qua la preparazione della squadra come vi avevo promesso adesso siamo pronti ad affrontare la prima partita ufficiale ad un certo livello di qualità ciao a tutti